Grazie a tutti e a tutte che siete qui, soprattutto siete qui per ascoltare quello che io cercherò di dirvi e soprattutto invitarvi come invito alla lettura di questo saggio di Simone Veiler, la personalità che ho scritto pochi mesi prima di morire a Londra, che è uno dei capolavori del pensiero contemporaneo. Dedico questa mia lezione e la mia gratitudine anche per il festival che mi ha dato l'opportunità di ritornare su questo testo alla mia amica indimenticabile Angela Putino, grande studiosa di Simone Veil, purtroppo non c'è più, che ha scritto un libro il cui titolo è qualcosa che ha molto a che vedere con l'impersonale veiliano, un libro su Veil intitolato Un'intima e stranetà. Ingeborg Backman negli anni 50, la grande scrittrice, fece un docudrama, presentò un docudrama alla radio tedesca dedicato a Simone Veil. E si tratta, è pubblicato in italiano da Delphi, questo testo, e ci dà una rappresentazione di Simone Veil tuttora molto importante. E in questo testo, Ingeborg Backman dice che Simone Veil scriveva in un'epoca in cui difficilmente poteva immaginare quanto le avrebbero dato ragione i fatti. Allora ho scelto questo incipit proprio per segnalarvi il carattere anticipatore, fortemente anticipatore, del radicalismo di Simone Veil manifestato, espresso sul tema della persona. Brevemente ricordo, ma molti interventi probabilmente in questo festival, aggiungeranno molte cose al significato che la filosofia della persona ha assunto nel pensiero, non soltanto filosofico, ma anche giuridico, costituzionale, europeo, tra la prima e la seconda guerra mondiale, e soprattutto nel dopoguerra. C'era tra gli intellettuali e tra i filosofi un fervore enorme, misto di senso tragico, questa apocalisse, questa catastrofe dell'umano da un lato e dall'altro c'era, e forse dovremmo rinnovarlo anche noi oggi, un grande sforzo di ricostruttivo, quindi anche di costruzione, di un nuovo pensiero. Ora, in questo contesto, che posizione assume Simone Veil? Come già ricordava Ingeborg Bachmann, l'attività di Simone Veil si svolge molto intensa negli anni Trenta e nei primi anni della guerra. Lei, come già stato ricordato, morirà nel 1943. Non fare in tempo, come per esempio sarà il centro ispiratore dell'opera di Anne Arendt, a guardare in faccia i lager, quindi l'universo concentrazionario, e quindi i buchi dell'oblio. Simone Veil si confronta, negli anni della sua intensa attività, però con fenomeni che sono direttamente legati poi al totalitarismo e alla Shoah. Per esempio, come voi sapete, fu per alcuni mesi operaia alla catena di montaggio della Renault e quindi lavorò sulla organizzazione del lavoro in fabbrica di tipo tayloristico. fu anche inviata, perché era fragilissima dal punto di vista fisico, ma molto coraggiosa, fu anche inviata poco tempo prima dell'avvento del trionfo del nazismo in Germania, proprio in Germania, e osservò e raccontò la crisi della democrazia parlamentare, la democrazia di Weimar, che poi precipita con l'ascesa al potere di Hitler, ma poi guarda anche alla crescita, e questo era un fenomeno sia tedesco ma anche francese e ovviamente anche italiano, negli anni dell'avvento del nazismo e del fascismo, la crescita di una massa di lavoratori, allora lavoratori, oggi sarebbero anche disoccupati, che lei osservava trascorrevano la vita tra la monotonia e il caso, e quindi erano facile preda della propaganda nazionalista favorevole alla guerra. Ora, proprio in quegli anni, come dicevo, voci, per esempio, molto importanti della filosofia francese cattolica, in particolare quella di Manuel Meunier, di Jacques Maritain, raccogliendo suggestioni anche della fenomenologia, per esempio, suggestioni che venivano dall'opera di Max Scheler, che, insomma, fondò già tra l'inizio e la fine della Prima Guerra Mondiale, nella sua grande opera sull'etica, fondò una filosofia della persona. Ecco, queste voci avevano parlato della persona come, diciamo, una visione dell'essere umano il cui valore avrebbe dovuto essere affermato contro l'anonimato della società di massa, da un lato, ma anche contro lo sterminio, diciamo, imminente o compiuto per chi poi ha la fortuna di vivere ancora nel dopoguerra. Quindi il valore della persona, proprio come unità di corpo, psiche, anima, spirito, ma anche proprio come valore che avrebbe consentito di gettare un ponte tra individuo e collettività o comunità. Ora, in questo, diciamo, contesto, tra l'altro ci sono anche, ma nel testo che voi vedrete del saggio, Simone Novelle non si occupa assolutamente di entrare in discussione, tantomeno in polemica con Munier o con Maritain, ci sono delle lettere, insomma, ma questo è veramente un aspetto del tutto, diciamo, marginale del suo saggio. L'importante è notare come, nell'ambiente francese del personalismo cattolico, in un ambiente in cui una densità, come dicevo, di significati erano stati, diciamo, legati alla riflessione sulla persona, Simone Novelle ci propone il tema dell'impersonale. Quindi è un tema radicalmente, diciamo, contrapposto, adesso poi non era semplicemente una antilidea, una teoria dell'antipersona, comunque a quel tipo di atmosfera filosofica e culturale. Nel saggio, la persona del sacro, troviamo concentrati molti temi importanti del pensiero vegliano. E, aggiungo subito, non troviamo, nel tema dell'impersonale, non troviamo assolutamente un'antitesi nei confronti dell'idea di persona, così come non troviamo una discussione con Munier piuttosto che con Maritain. L'impersonale, invece, ed è questo il primo punto da cui dobbiamo partire, è una cifra dello stile del pensiero e della scrittura vegliano. Chi conosca Simone Novelle, per esempio, vada a ritrovare quel resoconto di una sua esperienza mistica molto noto e variamente interpretato, troverà che anche lì c'è un taglio profondamente impersonale. Ma l'impersonale è la cifra della sua esperienza di vita, ma anche di pensiero. Cioè, è il modo in cui Simone Novelle si è posta nel mondo, ponendosi al centro del contrasto irriducibile di, da un lato, quello che lei chiamava il piano della necessità, cioè fragilità, potere, violenza individuale e sociale, e dall'altro quello che lei chiama il piano del bene, oppure che è il piano dell'impersonale. Il nodo di fondo di questo intervento di Simone Weil è quindi un totale rovesciamento dei termini in gioco riguardante, appunto, la filosofia della persona. Io ritengo che questo saggio si possa leggere, nel suo estremo rigore, come la proposta di una nuova grammatica dell'umano. Cioè, Simone Weil si pone sullo stesso terreno delle filosofie della persona, che, come dicevo, volevano ricomporre il valore, l'unitarietà dell'individuo, e quindi anche gettare le basi della partecipazione dell'individuo al collettivo e alla comunità. D'altra parte, questo valore, il valore della persona, è stato anche notato, doveva, aveva molte difficoltà a gestire, per esempio, il rapporto con l'animalità, diciamo, la fisiologia, la corporeità della persona, e invece tutti gli aspetti legati più allo spirito, e quindi alla vita più propriamente, diciamo, umana, sociale, della persona medesima. Quello che importa è che Simone Weil si pone sullo stesso terreno, un'interrogazione sull'umano, ed è proprio qui che la sua nozione di impersonale ci indica una strada radicalmente opposta a quella delle filosofie della persona. Allora, dato che il saggio è pubblicato, ho visto anche questa edizione piccolina, che costa meno di un panino, e quindi immagino che voi sicuramente lo leggerete, perché è folgorante ed è anche molto breve. Quindi richiamo, vi invito a fare molta attenzione proprio alle prime pagine del saggio, che peraltro poi si apre con un frammento di conversazione. Lei non mi interessa. Un uomo, aggiunge subito Simone Weil, non può rivolgere queste parole a un altro uomo, senza commettere una crudeltà e ferire la giustizia. Entriamo subito in medias res. Ricordo che questo lei, italiano, è il V francese, quindi è chiaramente un modo di apostrofare l'altro urbano, chiamiamolo borghese, infatti lei ritiene, nelle sue brevissime riferimenti critici ai filosofi della persona, ritiene che siano degli intellettuali borghesi. Allora, in queste prime pagine, in questa edizione, vi do anche il numero 11-13, poi pagina 17, troviamo la struttura di fondo del contrasto persona-impersonale. A pagina 17 c'è l'enunciato che viene articolato in queste prime pagine, ciò che è sacro, lungi dall'essere la persona, è quello che in un uomo è impersonale. Tutto ciò che nell'uomo è impersonale è sacro e nient'altro lo è. Questo, diciamo, è subito il punto di partenza assolutamente chiaro. Ed è proprio questo che noi adesso dobbiamo esplorare, no? Perché qui si mettono in gioco questioni molto importanti. Il sacro dell'umano prende le mosse o inizia, diciamo, a manifestarsi nel momento in cui noi riflettiamo sul fatto che al fondo del cuore umano, così dice Simone Weil, c'è un grido silenzioso di dolore che invoca non farmi del male. Si tratta, lei dice, spesso di un grido inarticolato, di un sordo balbettio che difficilmente trova le parole per dirlo. Questo grido non è la rivendicazione e nemmeno il lamento di una vittima, ma è un'esperienza radicale. Sempre nelle prime pagine a cui mi sto riferendo voi trovate l'espressione si tratta dell'esperienza radicale di contatto con l'ingiustizia attraverso il dolore. Quel grido è una protesta impersonale. Facciamo attenzione alle parole perché la mente di Simone Weil è una mente matematica, suo fratello grande matematico, Andre Weil, quindi ha un rigore, tutto anche legato al pensiero francese. Quel grido è una protesta impersonale in nome di ciò che in ogni essere umano è sacro. Dunque impersonale e sacro si tengono, si legano strettamente. Perché si legano? Simone Weil continua il contatto con l'ingiustizia attraverso il dolore che è quell'esperienza radicale dalla quale emerge o che esprime ciò che è sacro nell'umano, cioè l'impersonale, è espressione, dicevo, anche balbettante del rapporto con l'ambito delle cose di primissimo ordine. Questa è l'espressione usata da Simone Weil che sono essenzialmente anonime. Prima dicevo persona contro l'anonimato della massa. Qui il contatto del dolore con l'ingiustizia attraverso il dolore è un contatto con l'impersonale che è qualcosa di anonimo. Le cose di primissimo ordine che sono anonime sono per Simone Weil la verità, la bellezza, la perfezione che abitano o scavano il fondo dell'animo umano, del cuore umano. Notate già come un intero vocabolario di parole, di valori e il corrispondente modo di pensare viene rimesso in gioco in queste primissime pagine. Personale e impersonale non sono i poli di un'antinomia dialettica ma sono opposti che stanno su piani diversi. tra di essi però e questo sarà il finale del saggio fondamentale si danno passaggi fragili passaggi all'impersonale. Simone Weil parla infatti di una responsabilità verso tutti gli esseri umani consistente nel proteggere tutti gli esseri umani non la persona bensì ogni fragile possibilità di passaggio nell'impersonale che la persona ricopre cioè nasconde o ostacola. Questa è una citazione da pagina 22. il contrasto c'è radicale profondo ed è proprio qui che dobbiamo andare avanti e seguire Simone Weil. Dicevo un intero vocabolario etico e politico viene rimesso in gioco perché c'è il tema della sofferenza c'è il tema del dolore c'è il tema dell'individuo c'è il tema del collettivo della comunità c'è il tema della responsabilità io seguirò i punti principali anche proprio perché così voi abbiate una mappa di questo saggio che è breve ma è anche molto complesso e questi punti principali già li elenco il primo è relativo a ciò che è sacro nell'umano ciò che è sacro nell'umano corrisponde per Simone Weil a una condizione di punto zero di anonimato di riduzione a cosa anche i manifesti del festival hanno una frase che la persona non può essere ridotta a cosa Simone Weil scombina molto diciamo questo modo di pensare ciò che è sacro nell'umano corrisponde a un punto zero che vedremo non è assolutamente un inchiodare gli esseri umani alle loro miserie e sofferenze e al contrario invece la leva per passare su di un altro piano quello appunto dell'impersonale secondo punto che mi interessa molto in quanto come alcuni di voi probabilmente sapranno sono studiosa da anni dell'empatia che oggi viene diciamo considerata all'interno della costellazione simpatia e compassione in Simone Weil il tema dell'impersonale si accompagna anche ad una critica della compassione naturale la quale a partire dalla dichiarazione dei diritti dell'uomo del cittadino della rivoluzione francese che ha una forte ispirazione russoiana e la compassione naturale quell'impossibilità nei termini di Rousseau di rimanere indifferente alla sofferenza di un altro essere umano impossibilità che anche già Rousseau lo diceva oggi le neuroscienze ci marciano alla grande insomma comuna non soltanto gli animali umani ma anche gli animali non umani ecco questo è nelle dichiarazioni dei diritti dell'uomo e del cittadino a partire dalla rivoluzione francese l'indice iscritto nella natura umana del comune destino e quindi ciò che fonda il rispetto della dignità umana e della solidarietà quindi il passaggio dall'io al noi questo istinto naturale di compassione è ciò che ci porta al rispetto della dignità della persona umana nelle pagine di Simone Vele troviamo una critica per nulla nichilista e per nulla diciamo amoralista o immoralista di questo mondo le parole compassione e pietà sono molto importanti in tutti gli scritti di Simone Vele anche in questo ma comprendono esperienze ben più ampie e radicali della condivisione della sofferenza terzo punto l'anticipavo prima fragili passaggi all'impersonale allora ho ricordato appunto che il saggio inizia con un brano di conversazione lei non mi interessa che passa dei salotti del modo in cui noi conversiamo con i nostri amici che passa o viene fatto passare questo tipo di conversazione viene fatta passare direttamente da Simone Veil in una in una terza persona non il V o il Lei sociale borghese educato ma il Lui Legli la terza persona per esempio di un brano commentato molto amato e commentato da Anna Arendt che non è egli cioè al maschile piuttosto che Ella no è una sorta di impersonale no è una terza persona impersonale cos'è questo passaggio a Lui Lui ci dice Simone Veil è Lui braccia occhi pensiero tutto e questo Lui e questo Egli e questo fondo ecco qui qualcuno si potrebbe anche interrogare sulla differenza dei sessi però non era il piano su cui si collocava Simone Veil e questo Egli o Lui che nel fondo del cuore si aspetta il bene e non il male e implora non farmi del male ora è un incipit che immette molto crudamente infatti lei aggiunge leggerete ma insomma se io anche mi avvicino a un'altra persona nell'ottica della persona in realtà posso benissimo pensare ad un rispetto dell'umano che di cui lei lui è una manifestazione un rappresentante però questo almeno così la pensa la radicalissima Simone Veil non mi impedirà mai di cavargli gli occhi proprio vi invito nella vostra lettura anche proprio a stare attenti a questa materialità diciamo che poi è rigore della scrittura ora è vero che gli esseri umani sono oggetto di violenze e di oltraggi agli esseri umani insomma vengono inflitti colpi innumerevoli ma questo tipo di violenza di oltraggio all'essere umano non si risolve nel contesto della compassione e nel contesto di affermazioni generali di rispetto dell'umano che c'è cioè dell'uomo in generale che ci sarebbe della sua dignità che sarebbe insita nei singoli individui dunque questo cosa vuol dire vuol dire che Simone Veil parte da un impegno di pensiero che rifiuta la logica binaria bontà altruismo contro egoismo malvagità ma pone la loro opposizione al centro della condizione umana e questo lei lo dice in molti modi e ciò di cui noi abbiamo bisogno per guardare senza parocchi in maniera rigorosa la realtà per guardare quale aspetto della realtà l'irriducibilità di amore e di giustizia di bene e di male ancora una volta dunque ogni essere umano si pone al centro di quella contraddizione non sta dalla parte del bene o dalla parte del male dell'egoismo se è malvagio o dell'altruismo se è solidale il riconoscimento dunque del valore dell'altro nella sua umanità sacra non si impone come il lato misericordioso compassionevole buono solidale di un mondo malvagio ma necessita di un vero e proprio mutamento del pensare del sentire cioè necessita di una più profonda e diversa lettura dell'origine del male allora è proprio qui che tocchiamo quella anticipazione geniale sottolineata da Simone Veil da parte di Simone Veil perché noi sappiamo benissimo che in uno dei momenti più oscuri della storia della politica europea cioè le atrocità della seconda guerra mondiale del totalitarismo e della Shoah hanno prodotto un fenomeno nuovo l'offesa peggiore che un umano possa fare al suo simile si è rivelata non tanto l'assassinio l'uccisione cioè togliergli c'è stato ovviamente anche questo violentemente la vita ma l'inchiodarlo alla sua natura biologica alla limitatezza delle sue energie alla casualità della sua capacità di sopravvivenza insomma pensiamo e tutto questo ha preparato proprio la distruzione tecnologica degli esseri umani pensate la leva che veniva azionata per far fuoriuscire il gas che avrebbe ucciso nei lager la leva toglieva qualsiasi contatto con le creature e i loro corpi sofferenti quindi questo è il fenomeno nuovo cioè alla radice di ogni forma di violenza di potere individuale e collettivo c'è questa minaccia questa diciamo capacità degli umani di disumanizzare gli altri dire di trasformarli in esseri che non sono dei diciamo gli internati nei lager si è parlato molto in termini di morti viventi no cioè di esseri che non non erano morti solo quando avevano diciamo un fisico che glielo consentiva per ragioni biologiche ma che erano morti socialmente moralmente e simbolicamente perché richiamo questo aspetto di eventi su cui Simone non ebbe il tempo di pensare proprio perché il tema del dolore insopportabile il dolore che disumanizza che rende pura vita biologica e il dolore di cui lei parla a proposito del contatto con l'ingiustizia attraverso il dolore ne parla come di esperienza a partire dalla quale pensare l'umano appunto non sapeva quanto le avrebbero dato ragione i fatti dunque il la sua diciamo radicalità è quella di consistita nel mettere al centro un'immagine di umanità ridotta dal punto zero della vulnerabilità fisica e dello smarrimento e qui c'è diciamo una reale obiezione alle filosofie della persona l'inumano a questo punto non sta più dal lato del confine tra umanità e mondo animale quindi passioni istinti incontrollabili e irrefrenabili cioè l'umano sta all'interno delle possibilità cioè l'inumano sta all'interno delle possibilità dell'umano medesimo sta in quel punto di atroce abbandono e anche di impotenza degli strumenti del linguaggio e del pensiero sta in quel punto lì e nella confine diciamo tra precipitare nell'inumano o invece l'aprirsi all'impersonale al sacco di qui devono ripartire questo è un altro nodo del saggio l'etica e la politica ricordo una lettera che nel 1942 quando ancora era per un breve periodo negli Stati Uniti che Simone Veil scrive da Casablanca padre Perrin che fu uno dei suoi diciamo interlocutori spirituali e religiosi in questa lettera Simone Veil chiede di essere perdonata per una colpa che lei ritiene imperdonabile cioè per la compassione che la trafigge di fronte alla sventura umana e lei aggiunge soprattutto la sventura degli sconosciuti e degli indifferenti pensiamo al nostro problema oggi di sintonizzarci sulle sofferenze per esempio di popolazioni ignote di cui non conosciamo linguaggio storia cultura o anche semplicemente di sintonizzarci su la crisi climatica ce l'oppone questo problema sugli effetti che il nostro diciamo andare in macchina ha non in Europa ma nel terzo mondo in alzamento del livello degli oceani ecco Simone Veil provava in prima persona questo tipo di istinto naturale questa è un po' l'immagine insomma l'immaginetta di Simone Veil l'eroina della compassione non solo l'immaginetta sua anche di Attil in realtà lei chiede di essere perdonata per questa colpa che le impedisce lei dice di amare Dio dunque perdonare la compassione è la prima unica volta in cui io ho trovato questo tipo di espressione che contrasta totalmente con la storia della virtù della compassione Simone Veil sostiene che la misericordia per esempio divina sia incommensurabile con la compassione umana e chiede perdono per quella che ritiene una risposta naturale istintiva e chiama un contraccolpo di questo meccanismo cioè proprio quello di cui parlava Rousseau l'istinto che gli esseri umani ma anche certi animali non umani provano e che impedisce loro di restare indifferenti di fronte alla sofferenza altrui la compassione naturale istintiva dunque è imperdonabile perché si illude di rimediare al male del mondo con una semplice risposta automatica di cui allora si diparte adesso io sarò molto rapida su questo tema la sua concezione del dolore che in francese lei esprimeva con il termine malheur cioè sventura e che è tutta imperniata sul fatto che non sulla negazione della sofferenza fisica tutt'altro ma sul fatto che e lo troverete anche nel saggio la persona del sacro nella sofferenza fisica c'è qualcosa d'altro e di più c'è sventura c'è malheur allora malheur molto sinteticamente cos'è malheur è la forza contagiosa che le ferite e gli oltraggi l'abbandono l'umiliazione possiamo anche usare proprio l'essere trattati in maniera indegna la forza di espansione e di contagio che queste miserie queste sventure degli esseri umani esercitano sulla radice il cuore dell'essere umano che ne è vittima dunque il malheur è molto di più della sofferenza fisica il malheur uguale dolore ricordo sempre e molto più lei aggiunge anche dei crimini commessi da alcuni esseri umani contro altri delle malattie che affliggono il genere umano si tratta di un male che ha un potere contagioso corrisponde ad un drastico impoverimento dell'esperienza che Simon Veil descrive parlando di quel disprezzo di sé di quel senso di oscura colpevolezza che è al fondo di chi viene trattato da servo o da schiavo o anche al fondo di chi viene ridotto alla mera sopravvivenza la sventura è un punto zero che incatena implacabilmente a diciamo una situazione del tutto opposta e molto più radicale più grave della convenzionale concezione di ciò che è umano qui siamo di fronte diciamo al rigore ovviamente che a molti anche a me sembra implacabile di Simon Veil d'altra parte anche qua proviamo a sintonizzarci con le sue parole cosa vuol dire con questa sventura che contagia fino in fondo io mi riferisco molto spesso a un film di Fassbinder del 1973 intitolato La paura mangia l'anima il concetto di Simon Veil è che la sventura è più della sofferenza fisica proprio perché mangia l'anima cioè impoverisce drasticamente sostanzialmente lo spirito e il cuore umano e questo diciamo perdita no perdita della propria autentica della sacralità dell'umano di ciascuno lei la descrive in forme con espressioni che sono veramente quasi angosciose la sventura fa diciamo riduce un singolo essere umano a diciamo a pura corporeità un corpo che si contorce qui la cito come un verme mezzo schiacciato mutilato e insieme invisibile perché le persone gli passano accanto senza accorgersene oppure ancora qui scusatemi se faccio scusatemi mi vengono spontanei questi riferimenti quanti homeless eccetera noi passiamo accanto sul marciapietà metropoli e praticamente non li vediamo forse li guardiamo ma non li vediamo ma c'è anche l'aspetto e Simone Vella è molto efficace in questo di una sorta di repulsione si comportano in modo strano socialmente riprovevole ed è proprio questo l'odio il disprezzo che lo sventurato non può far altro che rivolgere contro di sé dunque sono e qui di nuovo la matematica Simone Vella viene fuori lei riconduce questo meccanismo a leggi naturali per esempio la legge di gravità no oppure il colpo di un martello sul chiodo la pietra che cade no l'uomo disteso o la donna disteso sul marciapiede il corpo di martello sul chiodo che incide nel profondo dell'anima ma è proprio in questo punto che poi coinvolge dei temi che non posso toccare oggi che sono molto discussi molto dibattuti anche diversamente interpretati che Simone Vella ci propone un mutamento dello sguardo cioè qui lei sta di che cosa sta parlando sta parlando di dolore fisico di degradazione sociale no appunto lei sapeva benissimo cosa significava essere un operaio la catena di montaggio essere un disoccupato eccetera ma non ce ne parla nei termini di una pervasività infettiva del male proprio perché ogni individuo nel suo corpo occhi braccia quegli occhi braccia che la categoria di persona non insomma sembra inermo impotente a evitarci di cavargli ecco o di fargli del male ecco invece di in questa diciamo rappresentazione così materiale no della derelizione umana lei ci dice che proprio in quel punto in cui l'anima dello sventurato viene mangiata dal suo dolore dall'abbandono proprio lì si apre per lei la massima distanza tra l'umano e il divino però si apre quel contatto con l'ingiustizia attraverso il dolore cioè si apre lo spazio per l'apertura a qualcosa d'altro e che è appunto l'impersonale allora io penso che ancora una volta questo qualcosa d'altro questo impersonale questa sacralità dell'umano deve essere in rapporto probabilmente anche per rispetto nei confronti di Simone Veil trattata con estrema delicatezza sappiamo tutte le sue implicazioni neanche nei confronti del suo tormentato percorso verso la fede lei rimase sulla soglia ma io voglio segnalarvi perché appunto è contestuale al saggio di cui stiamo parlando proprio quel contributo che prima ancora di entrare diciamo nelle scelte decisive del pensiero di Simone Veil il contributo che lei ci dà soprattutto poi oggi Simone Veil ha rappresentato in maniera estremamente concreta e lucida la figura umana cioè ce l'ha descritta che corrisponde a quel momento di contatto in cui si gioca tutto si gioca a diventare schiavi o diventare vittime oltretutto invisibili che non vengono nemmeno prese in considerazione ma si gioca anche la possibilità di aprirsi a qualcosa d'altro appunto alla verità alla bellezza alla giustizia lei lei ci ha fornito delle figure legate proprio sia alla sua cultura al suo amore per esempio per l'Iliade ma anche alla società del suo tempo voi sapete che lei amava e si è alimentata moltissimo di cultura greca e per esempio in un altro saggio meraviglioso l'Iliade poema della forza lei si concentra sul versi dell'Iliade in cui c'è il vecchio priamo che dopo l'uccisione di Ettore da parte di Achille nel duello si reca nella tenda di Achille implorando la restituzione del corpo del figlio e la scena è descritta e così commentata da Simone Veil proprio come un esempio del vecchio priamo supplice che piega le ginocchia davanti al giovane bellissimo vittorioso eroe e come una pietra un masso soggiace alla forza di gravità e è trasformato in cosa pesante inerte schiacciata dal dolore qui oltretutto poi chi va a ripendersi di lì e lo noterà nessuno se ne accorge è un nemico entra nella tenda di Achille e nessuno perché perché lo sventurato invisibile ma fino all'ultimo cioè Achille stesso che peraltro sta piangendo la morte di Patroclo entrambi piangono entrambi piangono ma senza relazione del dolore dell'uno sembrano ebrei palestinesi entrambi piangono il proprio caro ucciso e in una indistinzione che però non li lega assolutamente questa è una scena di punto zero diciamo di grado zero dell'umano importantissima ma ci sono altri esempi che mi limito a citare a proposito quando nel suo diario di fabbrica Simone Weil racconta e questo successe a lei perché era particolarmente maldestra come voi potete immaginare dice quando l'operaio la catena di montaggio si ferisce lui dice attraverso la ferita un pezzo di lamiera per esempio di Kate sul braccio o peggio ancora altrove ecco questo è il modo in cui l'organizzazione capitalistica del lavoro e dello sfruttamento entra nel corpo dell'operaio un altro esempio anche questo veramente interessante lei aveva osservato che le operaie che diciamo dovevano entrare i cancelli della Renault non so le otto della mattina o le sei della mattina aspettavano sotto la pioggia l'aprirsi dei cancelli allora stabilita e lei dice come insomma potevano ripararsi mettere da cosa significava per lei questo aspettare sotto la pioggia ancora una volta era una postura corporea che incarnava la subalternità l'obbedienza volontaria al tempo dell'orologio allora questi sono esempi di quel contatto con l'ingiustizia attraverso il dolore che può essere anche diciamo trovarsi una condizione sociale economica di totale esposizione all'autorità altrui al sfruttamento allora mi avvio alla conclusione figure dunque intense sicuramente estreme tutte collocate nel punto zero dell'umano qui sta ripeto ancora una volta il sacro dell'umano cioè nella condizione di massima vulnerabilità e inermità in cui il corpo notiamolo bene il corpo che è un'altra delle cose che i critici delle filosofie della persona dicono abbiamo una difficile collocazione all'interno delle filosofie delle ontologie della persona ecco il corpo qui è incrocio di forze naturali meccaniche di dinamiche storiche di affezioni psichiche ma proprio sono tutte figure anonime no? Primo insomma non viene non viene nemmeno visto insomma questo è qualcosa che spiazza sembra ovvio ma non è molto ovvio l'operaio della catena di montaggio è un numero l'operaia fuori dei cancelli della Renault è anch'essa un numero in una gruppo o massa anonima allora proprio l'anonimato di queste figure ripeto perché incrocia nel suo corpo lo sfruttamento la violenza la forza il potere ecco questo facendo all'universalità dell'umano e ricordo che proprio questo tema dell'universalità dell'umano ritorna in un altro scritto proprio della fine della vita di Simone Velli che non a caso fu pubblicato postumo e che in italiano è tradotto con il titolo la prima radice in cui Simone Vell si rifà ad un obbligo universale nei confronti degli esseri umani che viene contrapposto al diritto e anche qua ci sono pagine di critica nei confronti della cultura dei diritti e questo obbligo nei confronti di ogni essere umano è anch'esso oltretutto poi che attraversa la cultura occidentale ma anche la cultura orientale la spiritualità cristiana ebraico cristiana ma anche l'induismo eccetera questo obbligo originario nei confronti di ogni essere umano è un obbligo nei confronti di ciò che è sacro in ogni essere umano proprio in questo testo la prima radice il non so come chiamarlo ma questa attenzione di Simone Veil alla materialità dei corpi quindi il suo impersonale non ha niente a che vedere con una fuga verso la trascendenza il soprannaturale no proprio perché è incarnato nella nei desideri e anche nei bisogni materiali il libro la prima radice è un libro estremamente voglioso di ricostruire di portare fuori insomma dalla dalla Francia dall'Europa in preda al nazismo al fascismo di portare fuori come diceva Till esum nuovi pensieri e questi nuovi pensieri per Simone Veil riguardano proprio partono dai bisogni che per lei sono ovviamente bisogni materiali ma sono anche bisogni spirituali lei traccerà proprio in questo testo anche un'idea per esempio di architettura delle fabbriche dice non più la macro struttura ma invece piccole strutture ognuno può decidere insomma la valutazione valutare questo tipo di però questo ci dice un'immaginazione ovviamente molto concreta dunque l'esperienza fisica i desideri i bisogni materiali e spirituali sono loro a partire dai quali noi decifriamo la storia la politica l'economia e riusciamo anche a non cadere preda delle illusioni dei miti e delle menzogne allora concludo dicendo che oggi insomma è proprio questa la situazione in cui noi ci troviamo cioè l'economia la politica la vita quotidiana dell'uomo e della donna del nuovo millennio hanno messo al centro una forma di umanità fragile e inerme cioè Simone Velci presenta l'operaio l'operaia il supplice lo schiavo oggi noi possiamo affiancare questi le non persone i Saint-Papier i migranti le vittime civili dei bombardamenti delle guerre cosiddette umanitarie o degli attentati ma anche le vittime dei terremoti e delle inondazioni ma ancora le vite sospese sul confine della vita della morte della malattia che è una tecnica ancora insomma abbastanza imperfetta propone alla nostra riflessione sotto il profilo proprio di nuove vicende dell'umano ecco io credo che qui il tema dell'impersonale mettiamo pure anche il contrasto su punti essenziali della idea delle filosofie ontologia della persona cioè producono spostamento che è uno spostamento veramente verso l'attualità che noi stiamo vivendo ora in questa dicevo che si tratta appunto di un pensiero molto radicale di un pensiero che va che parte o prende le mosse da un punto zero dell'umano ma che però rilancia il vincolo tra etica politica e ispirazione ideale ed è proprio qui che si può riferirsi ai fragili passaggi all'impersonale di nuovo ne avrete la conferma attraverso la lettura trovate esempi di una concretezza e anche ovviamente chiarezza incredibile quali sono i fragili passaggi all'impersonale lei li esemplifica parlando innanzitutto dell'educazione e dell'istruzione dice se un insegnante ovviamente un insegnante si deve occupare fornire nozioni eccetera e quindi invitare anche la disciplina lo studio i suoi studenti ma la cosa più importante sarebbe proprio di aprire quello che per lei è il passaggio all'impersonale cioè aprire la questione dell'apprendimento aprirla alla passione per ciò che si sta leggendo che si sta studiando per lei la chiamava anche la verità di ciò che si sta verità sull'umano verità anche sul mondo in cui noi viviamo secondo esempio stampa oggi diremmo media problema della libertà di espressione anche qua lei ci offre un'idea dei fragili passaggi all'impersonale dice bene la libertà di espressione è comunemente intesa poi in un paese molto liberale come già era la Francia a quei tempi come libertà per tutti di esprimere quello che pensano e quindi la stampa si fa promotrice di questo tipo di diciamo rappresentazione o dare voce alla varietà delle opinioni ma dice ma non sarebbe il caso di fare una mossa diversa cioè di aprire questa diciamo vastità di opinioni al tema della verità intesa come senso di realtà non manipolazione dei fatti pie illusioni retoriche consolatorie oppure che aizzano i peggiori istinti la verità per Simone Bell non è un concetto filosofico astratto la verità è dire il vero cioè dire la realtà anche nei suoi aspetti difficilmente sopportabili per quello che partiti politici ecco ce n'è anche per i partiti politici sei partiti politici molto noto anche un suo manifesto contro partiti politici io adesso mi riferisco a quello che lei dice qua se i partiti politici si occupassero proprio di aprire lo spazio per quel ne va di qualcosa d'altro no? cioè per quella che Ann Arendt chiamava la grande agenda della politica cioè i grandi temi i grandi problemi e non la semplice amministrazione dell'esistente con tutti i suoi condizionamenti anche questo sarebbe un modo di gestire di essere membro di un partito politico che si diciamo aprirebbe qualche appunto fragile passaggio all'impersonale tengo a notare e con questo concludo tengo a notare che l'aggettivo fragile sapete che fragile e fragilità vogliono dire due cose cioè ciò che è fragile è anche molto prezioso no? un bicchiere di cristallo che solo a guardarlo si rompe cioè è fragilissimo ma è anche molto prezioso allora questi passaggi all'impersonale ci indicano e io direi che oggi un etico una politica almeno diciamo uno sguardo a questa prospettiva potrebbe darlo ci dicono come ci sono variazioni e differenze minimali no? infinitesimali nel insegnare nel gestire un partito politico nel fare il giornalista sono differenze infime che non cambiano il mondo non cambiano la legge sulla stampa però o sui media eccetera però sono punti di contatto che ogni essere come tutti noi imperfetti ambigui e particolarmente tormentati nel loro rapporto con il bene e con il male ecco ciascuno di noi può fare spiragli aperti verso questo impersonale che riassume ormai mi pare molto chiaro no? riassume la scommessa più profonda della nostra umanità grazie grazie grazie